Pavia ha dedicato una nuova via ad Aurelio Chiappero, vogliamo ricordare la figura di questo uomo? La ricordiamo ed è già stata ricordata anche nel palazzetto che è stato costruito qui vicino e oggi anche con l'intitolazione di questa parte di strada. Aurelio Chiappero è stato uno dei pionieri dello sport a Pavia, è stato il più giovane insegnante di educazione fisica in Italia, cosa forse poco nota e soprattutto per tutta la sua vita ha affiancato alla sua attività professionale di insegnante quella di promotori di attività sportive, introducendo a Pavia sport nuovi che allora non erano conosciuti come il badminton e impegnandosi anche nel sociale e nel volontariato. Insomma una figura di persona scomparsa 25 anni fa che ha lasciato una traccia tangibile ancora oggi nel senso che ancora oggi le attività sportive, i club, le società lo ricordano. Vuol dire che evidentemente ha seminato molto e in questi anni la città sta ancora raccogliendo. Per prima cosa voglio ringraziare vivamente a nome anche di mia sorella Lorenza e di tutti i miei cari il sindaco Massimo De Paoli e tutta la giunta del comune di Pavia. Vi siamo veramente grati perché l'intitolazione di questa via a nostro padre è un chiaro riconoscimento del lavoro, dei sacrifici, dell'impegno che lui ha profuso per tutta la vita. Nella promozione di sempre nuove discipline sportive in Italia e dello sport italiano nel mondo. Nostro padre ha veramente dedicato l'intera sua vita allo sport e si può dire senza ombra di dubbio che lo sport sia stato la sua vita.